Ciao a tutti! Oggi sono qua per farvi il secondo video o la seconda parte sul video delle pettinature. Intanto vi riconsiglio di nuovo di non farvi i capelli il giorno prima della gara, come ho fatto io per una questione di tempistica più che altro, perché ieri non ho avuto tempo, ma di farli magari due giorni prima così non sono troppo puliti. Ovviamente anche questa volta vi servono forcine ed elastici che comunque possono essere neri o colorati, come meglio credete, che comunque tengano bene i capelli. Io ho preso questi un euro al mercatino, mi ci trovo abbastanza bene, devo dire la verità. Allora, vi farò vedere tre tipi di treccia e vi farò vedere anche un'altra acconciatura che ha bisogno di una cosa più particolare. Intanto vado a legarmi i capelli da una parte, allora vi ricordo sempre che comunque i capelli, essendo che sono molto puliti, sono parecchio scivolosi e quindi è per questo che io li attacco così. Però, allora io solitamente queste pettinature non le utilizzo perché preferisco fare altre cose, mi sono avvicinata così vedete meglio. Allora, la prima pettinatura è una treccia un po' più particolare, non si dividono i capelli in tre, ma si dividono in due. Allora, si dividono in due, io non mi ricordo se questa è l'isca di pesce o spiega di grano, però comunque è una delle due cose. Allora, io vado a prendere un ciuffo da dietro, vedete, da dietro, e lo vado a sovrapporre a quel coso e a passarlo accanto. Faccio così, faccio la stessa cosa dall'altra parte, e allora non ve le faccio vedere da dietro per il semplice motivo, il procedimento è il medesimo, attenzione, perché mi viene molto scomodo, io dopo un po' mi si stancano le braccia, infatti non riesco a farlo, cioè se la devo fare per me sono molto veloce, ma siccome per voi il procedimento deve essere più accurato, allora io non preferisco farlo così, così riuscite a vederlo meglio. Così, vedete, sembra una treccia normale, ma non lo è, passate così. Allora, in teoria più sono piccole le ciocche, meglio è, però io siccome ho capelli scalati non posso prendere delle ciocche troppo piccole, perché poi non uscirebbero i capelli fuori, e a me quando escono i capelli di fuori non mi piace. Poi vi consiglio di non mettere il gel, ma al massimo mettere della lacca, perché a me il gel appiccico, cioè almeno per quello che ne penso io, appiccico un po' troppo e non mi entusiasma. Allora, vedete, io già sono arrivata praticamente quasi alla fine dei miei capelli, potete decidere se farla, praticamente, io ormai sto quasi arrivando, perché i miei capelli stanno andando troppo piccoli, se farla per tutti i capelli, cioè quindi fino a qui e chiudervela con un elastichino piccolino, o se farla fino a dove arrivano i capelli, infatti io mi sto fermando qua, e potete scegliere se utilizzare un elastico grosso come questo per fermarla, oppure, io non ho nessun problema, utilizzare tipo gli elastichini quelli che utilizzate per i crini dei cavalli, perché comunque sono più piccolini, vedete, questo fa un effetto un po' troppo pesante, anche se è chiusa così alla bene e meglio, e quindi magari preferite fare in questo modo. Vi faccio vedere il risultato, il risultato è praticamente questo. Allora, vedete, già i capelli si sono un poco ammosciati perché li ho tirati per fare la cosa, infatti questa la farò da quest'altra parte. Allora, stavolta sempre lo stesso procedimento, attaccate i capelli, in questo modo. Li farò un po' da una parte o un po' dall'altra per non stressare troppi i capelli. Allora, stavolta dovete fare la treccia classica, quindi quella a tre, però in una maniera un po' più particolare. Allora, intanto procediamo con la divisione più equa possibile, che in questo momento non riesco a fare, ok. Più o meno così, ho i capelli scalati, quindi purtroppo la divisione non riesce a essere sempre proprio equa al 100%. Cerco di far quel che posso. Allora, perfetto. Allora, voi avete i capelli in questo modo. Allora, quello che dovete fare è praticamente fare una treccia sostanzialmente 3D, che verrà treccia in tutti e quattro i lati. Allora, come si fa la treccia normale? Si prende da destra e poi a sinistra. Allora, noi prendiamo destra, così, lo dividiamo, come potete vedere, e passiamo quello che andrebbe al centro, in mezzo, e richiudiamo la ciocca. Poi, facciamo la stessa cosa con questo, la dividiamo a metà, vedete, è divisa, ci passiamo quella che sta al centro, e chiudiamo. Questa ve la faccio vedere un po' più lentamente, perché ha dei procedimenti un pochettino più particolari. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, per questo ve la faccio vedere così, perché io almeno riesco a vedere anche quello che faccio, che in quell'altro modo non riuscirei a farvi vedere. Dividiamo di nuovo e mettiamo questa qui al centro, mettiamo questa di qui, sempre nello stesso modo. Considerate che già a me fa male il polso per fare tutti questi movimenti, perché devo stare col polso un po' troppo tirato. Ora, appena ho quasi finito, la attacco e vi faccio vedere il risultato. Va bene, la lascio così, perché non ce la faccio a continuare. Mi sta spappolando il polso. Ah, il braccio! Allora, vedete, qui risulta una treccia normalissima, ma la treccia la troviamo anche da questa parte. Anche da questa parte, per quello che riesco a farvi vedere, ve la lascio così e anche di sotto, verrete? È da tutti i lati. E questa è un'altra treccia che, devo dire, mi piace moltissimo. Avrei voluto farvi vedere un'altra treccia, ma devo dire che con i miei capelli, che sono scalati e abbastanza fini da piastrati, mi è un po' complicato da fare. Ci ho provato, avevo registrato il pezzo, ma vi giuro, vi veniva un po' una cosa sconclusionata. Quindi passiamo all'ultima acconciatura, che secondo me è più utile per le gare di equitation, per le gare di dressage, è molto meglio. Allora, intanto legate i capelli, in questo modo. Fate una coda dietro. Poi, quello che vi servirà è una retina normale, di quelle per fare gli chignon, oppure nei negozi di equitazione vendono questa particolare retina fatta magari in altri colori e in altre sistemazioni, dove praticamente, almeno nel mio caso specifico, c'è una spilla con tre teste di cavallo e un brillantino e c'è la retina blu. Ora, io mi giro per farvi vedere come la inserisco. La molletta è fatta praticamente in questo modo. Tra l'altro mi è pure uscita di fuori, che gioia. La sistemiamo insieme. Ok. Ora vi faccio vedere. Allora, io mi giro in questo modo. Spero che qualcosa si veda. Praticamente vado a prendere la mollettina e ad inserire la molletta nella parte superiore della coda, non troppo in alto però, la vado ad inserire qui e vado a chiudere la molletta. Prendo i capelli, li arrotolo come meglio posso, diciamo, intanto non ha importanza, e li vado ad infilare dentro la retina. E vedete, questo è il risultato. Ora, non so se magari è dritto o storto, però il risultato è questo. Ecco fatto. Devo dire che è davvero molto semplice ed elegante, comunque obbligatoria per quando si fanno le gare di dressage, è obbligatoria per quando si fanno le gare di equitation, che sono quelli per punteggio di eleganza. Io adesso me la tolgo, che poi toglierla forse è ancora più semplice che in teoria metterselo. Ok, perfetto. I capelli del perrucchiere sono già finiti, va bene? E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Detto questo, fatemi sapere, lasciate un bel mi piace qua sotto, i vostri commenti, fatemi sapere se avete bisogno di qualche altra idea. Più tardi girerò anche il video sulle treccine, su come si fanno le treccine ai cavalli. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!